dagli atti degli apostoli mentre paolo era corinto una notte in visione il signore gli disse non avere paura continua a parlare non tacere perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male in questa città io un popolo numeroso così paolo si fermò un anno e mezzo insegnava fra loro la parola di dio mentre gallione era proconsole della caia i giudei insorsero unanimi contro paolo lo condusso davanti al tribunale dicendo costui persuade la gente a rendere culto a dio in modo contrario alla legge paolo stava per rispondere ma gallione disse ai giudei se si trattasse di un delitto di un misfatto io vi ascolterei o giudei come giusto ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge vedetevela voi io non voglio essere giudice di queste faccende e li fece cacciare dal tribunale allora tutti afferrarono sostene capo della sinagoga e lo percossero davanti al tribunale ma gallione non si curava affatto di questo paolo si trattenne ancora diversi giorni poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in siria in compagnia di priscille e aquila a cencre si ha rasato il capo a caso di un voto che aveva fatto si è rodato gesù cristo sempre si è rodato oggi venerdì 22 maggio 2020 memoria di santa rita da cascia grande festa una grande santa santa tutta italiana la santa dell'impossibile degli impossibili dei miracoli impossibili una santa che è stata mamma e monaca sposa e consacrata bellissima una figura meravigliosa una donna che ha fatto della sofferenza proprio l'altare del suo sì a gesù ha sofferto quando era nella sua famiglia una famiglia tremenda con un marito due figli una croce peggio dell'altra e poi ha sofferto anche in monastero è morta mi sembra intorno ai 76 anni 70 76 anni ed è stata una vita piena della presenza di dio bellissima la vogliamo proprio tanto invocare soprattutto in questo tempo che potremmo definirlo anche noi il tempo dell'impossibile può capitare nella vita di vivere momenti che sembra sembrava impossibile poter vivere e invece accada e la lettura di oggi tratta dal capitolo diciottesimo degli ati degli apostoli ci mostra il nostro amato gesù il nostro divino maestro che va a confortare a consolare a incoraggiare paolo l'apostolo paolo non avere paura continua a parlare e non tacere perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male di fatto di fatto cercano di fargli del male non ci riescono ecco non ci riescono adesso poi alla fine si sa come finirà la vita di san paolo quindi si sa che morirà decapitato a roma quindi lo sappiamo ecco lo sappiamo come finisce però il signore lo spinge ad andare oltre lo spinge a non lasciarsi come fulminare ecco fulminare dall'impossibilità del momento presente a non lasciarsi fulminare da tutto il male che san paolo aveva attorno in questa città io un popolo numeroso sapevo che a questo mondo c'erano tante belle persone lo sapevo forse più per immaginazione che per un'esperienza diretta nel senso che sapete fa più rumore dice il detto un albero che cade una foresta che cresce no quindi magari si rimane un po più impressionati dal male che dal bene che vediamo e quindi ma per me era un po un sapere ripeto per immaginazione cioè sapevo immaginavo che devo dirvi che in queste ultime settimane soprattutto in questi ultimi giorni il signore mi ha fatto la grazia di poter conoscere vedere che lui ha un popolo numeroso che veramente sono tante le persone che lo amano e che per gesù fanno dei sacrifici enormi subiscono delle umiliazioni tremende subiscono delle persecuzioni tremende quando leggo certe email quando ascolto ho visto alcune telefonate resto così resto ammirato 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 da leggere dall'ascoltare persone così tanto innamorate di Gesù così tanto coraggiose così tanto pronte nella loro semplicità nella povertà di mezzi alle volte anche di cultura di preparazione teologica povere e semplici come piacciono a Gesù ma tanto piene di amore per lui e sacerdoti sacerdoti quanti sacerdoti bravi quanti sacerdoti santi veramente innamorati del Signore che pagano in prima persona nel silenzio di questo mondo pagano in prima persona la loro fedeltà al Signore quanti anche qui quanta ammirazione quanto stupore un sacerdote proprio ieri mi ha detto padre io non posso andare contro la mia coscienza costi quel che costi e gli è costato veramente molto caro gli sta costando molto caro e non solo a lui mi sembra mi sembra di essere come come al tempo delle persecuzioni di Nerone dove dove le persone che erano fuori dai carceri dalle carceri andavano a portare un po' di conforto di nascosto ai confessori della fede cioè a coloro che si stavano preparando al martirio che stavano già confessando il nome di Gesù con la loro sofferenza atroce e che se venivano poi liberati o venivano fatti fuggire restavano confessori della fede che avevano rischiato il martirio ma non l'avevano subito che sono le perle le perle una perla di queste l'abbiamo tra noi Asia Bibi è un confessore della fede una perla per la nostra cristianità è come lei tanti altri e mi sembra di essere a quel tempo dove tu vai a portare un conforto un piccolo conforto una presenza una parola un ascolto e ammiri e guardi questi giganti questi giganti della fede questi giganti dell'amore per Gesù questi giganti della confessione sincera della loro fede e qualcuno mi chiede ma padre perché parla sempre delle stesse cose a dire il vero questo me lo dicono da vent'anni quindi vabbè è normale sarò un disco rotto cosa volete fare sarò un 45 giri rotto cosa ci devo fare che parla sempre delle stesse cose che tradotto vuol dire ma perché parla sempre dell'eucaristia ma basta ma lei sa parlare solo di quello ma con tutti gli argomenti teologici che ci sono ma è possibile che lei sape parlare solamente dell'eucaristia ma ci parli anche di altro di qualcos'altro ma basta l'abbiamo capito ma cosa continua a ripetere sempre le stesse cose ieri proprio ieri una persona me l'ha scritto basta 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 non continua a parlare sempre di queste cose e io cosa vi devo dire non so parlare di altro non lo so cosa vi devo dire non riesco a parlare di altro appena inizio a parlare vedo solo quello non so sarò fissato non lo so sarò patologico non lo so ma non riesco a parlarvi di altro perché capite ho davanti agli occhi questi esempi di fede sacerdoti laici ragazzi ragazze mamme papà che vivono veramente un tormento terribile interiormente e io come potrei tacere come potrei non dirle queste cose non avere paura continuo a parlare non tacere dice Gesù a San Paolo e io come potrei far finta di niente andare avanti e nascondermi nel mio buco ecco suona la campana queste campane scandiscono queste meditazioni è bello avere il conforto delle campane dobbiamo tutti tutti dobbiamo costantemente parlare e non tacere tutti tutti dobbiamo far presente a chi di dovere le cose che non funzionano e che non vanno bene certo ma per uno spirito di carità eh badate non per uno spirito di ribellione no per uno spirito di carità perché se la carità non è verità se la carità non porta alla verità non è carità e la carità suprema qual è? è correggere l'errore e come si fa a correggere l'errore? mica facendosi giustizia da sé? no andando dal padre da colui che è in quel momento il punto di riferimento e noi dobbiamo far così quando ormai le parole non bastano più bisogna ricorrere al punto di riferimento che oggi in questo momento nella chiesa per tutte le questioni riguardanti i sacramenti è il prefetto della congregazione per il culto divino e disciplina di sacramenti quindi per carità e la carità è con lei che ha cuore la verità per carità uno propone uno espone con la massima delicatezza possibile con il massimo decoro possibile con il massimo rispetto possibile con la massima obbedienza possibile e nello stesso tempo con la più grande sincerità nello stesso tempo con la più grande fermezza che viene dal rispetto dovuto alla verità espone modestamente umilmente il proprio accadimento il proprio vissuto lo espone lo scrive e lo depone nelle mani di chi oggi ha questa responsabilità di chi oggi la chiesa ha preposto e ci ha messo davanti come punto di riferimento per queste questioni niente con tante semplicità ripeto non come ribellione non come non lo so rancore non con rancore no 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 con tanta semplicità tanta umiltà tanta carità e tanta verità uno prende carta e penna e scrive racconta narra in modo sintetico e ricordatevi sempre bisogna essere sempre molto sintetici in modo sintetico racconta narra il proprio vissuto quello che vede e lo affida lo affida questa è la chiesa è quello che succedeva negli nati degli apostoli accade affido San Paolo quando c'è tutta la diatriba tutta la dialettica i pagani i circoncisi i noni non circoncisi da che andiamo non devi andare cosa fa Paolo? dice bene risolvo la questione vado a Gerusalemme e parlo con gli apostoli basta loro lo ascoltano no? lo ascoltano stanno con lui 15 giorni lo ascoltano ne parlano verificano ricevono tutti i suoi racconti e poi decidono Paolo vai con i pagani ti diamo la nostra destra in segno di benedizione vai basta ma se non l'avessero saputo se nessuno gli diceva niente se Paolo non fosse andato a parlare se Paolo non avesse espresso la sua sofferenza la sua fatica la pressione interiore che sentiva da parte del Signore che lo chiamava lì come avrebbero potuto aiutarlo? non potevano non sapevano e invece Paolo molto umilmente ma anche molto fermamente va e racconta e questo da sempre è possibile nella Chiesa sempre poi la decisione ultima la si affida ma ma tutto si fa per essere sinceri chiari e trasparenti ci vuole coraggio? sì ci vuole coraggio ci vuole coraggio ma Gesù quanto coraggio ha avuto per morire per noi in croce e noi non possiamo avere un po' di coraggino piccolino piccolino un piccolo coraggio è fare per Gesù quello che è in coscienza se lo sentiamo se lo sentiamo fare per Gesù quello che è in coscienza se lo sentiamo lo sentiamo e lo dobbiamo fare e lo rinformiamo e questo è importante molto importante e così Paolo affronta la sua vita e anche noi dobbiamo affrontare la nostra di vita e andiamo avanti con il nostro testo di San Pietro Giuliano Heimard che abbiamo iniziato ieri sull'eucaristia e il nostro bisogno avrebbe mai Gesù voluto metterci in questa condizione così triste di vivere e combattere senza di lui o noi saremmo troppo infelici senza Gesù presente con noi esuli sopra la terra obbligate a privarci dei beni di questo mondo delle consolazioni della vita mentre il mondano quanto desidera la vita non sarebbe più tollerabile ma con l'eucaristia con Gesù in mezzo a noi sotto il medesimo tetto sempre là giorno e notte accessibile a tutti in atto di aspettarci tutti nella sua casa sempre aperta ricevendo anzi chiamando i piccoli con una dichiarata predilezione così la vita è meno amare e il buon padre in mezzo ai figli è la vita in comune con Gesù ecco Gesù è con noi è in mezzo a noi sotto il medesimo tetto in chiesa sempre là giorno e notte sempre accessibile e allora e allora sfruttiamo questa occasione forse questi due mesi e mezzo di impossibilità forse ci hanno fatto riscoprire tante cose che prima magari neanche vedevamo è il buon padre in mezzo ai figli la vita in comune con Gesù bello come ci fa grandi come ci nobilita questa società e quale facilità di comunicazione di ricorso al cielo a Gesù Cristo in persona è questa veramente la dolce compagnia dell'amicizia semplice affettuosa familiare e intima proprio di questo avevamo bisogno verissimo l'amore vuole l'amore vuole la società dei beni il possesso in comune vuol condividere la felicità e la sventura e sua natura suo istinto dare dare tutto con gioia così vedete Gesù Cristo nel santissimo sacramento come da con profusione con prodigalità i suoi meriti le sue grazie la sua gloria stessa e qual premura di dare risponde mai con un rifiuto l'amore vuole comunione comunione di tutto comunione di tutto quando si comincia a fare i conti con la bilancia è finito l'amore quando si comincia io ti ho dato tu mi hai dato è finito l'amore perché non c'è mai stato l'amore non può finire o eterno o non è amore lo diceva già Cicerone lui dà tutto dà sempre tutto e non lo rifiuta mai ecco qui vedete Gesù dà se stesso a tutti e sempre copre il mondo di oste consacrate vuole che tutti i suoi figli lo possiedano dei cinque panni moltiplicati nel deserto sopravvanzarono dodici sport bisogna che tutti ne godano Gesù in sacramento vorrebbe avvolgere il mondo nel suo manto sacramentale ristorare tutti i popoli delle sue acque vivificanti che andranno a perdersi nell'oceano dell'eternità ma soltanto dopo aver dissetato riconfortato l'ultimo dei suoi letti dunque Gesù nell'eucaristia proprio per noi tutto per noi pensate quante ostie consacrate ci sono al mondo vorrebbe avvolgere tutto il mondo nel suo manto sacramentale bellissimo la tendenza dell'amore la sua tendenza finale l'unione di quelli che si amano la fusione di due in uno di due cuori in un cuore di due intelligenze in un'intelligenza di due anime in una sola anima udite quella madre che stringe il suo bimbo sul suo seno io lo mangio dice la madre Gesù subisce questa legge dell'amore fatta da lui medesimo dopo aver diviso con noi la nostra condizione la nostra vita mortale si da noi in comunione ci fonde in sé stesso ma che parole che parole non vi sentite il cuore che balza fuori dal petto a leggere queste parole non vi sentite incendiare di fuoco di un sacro fuoco eucaristico del sacro fuoco dei maccabei nascosto nel pozzo affinché gli empi non lo trovino non lo dissacrino nascondiamo anche noi il nostro sacro fuoco nel pozzo del nostro talamo nuziale la tendenza dell'amore è dell'unione di quelli che siamo della fusione due in uno di due cuori in un cuore di due intelligenza in un'intelligenza di due anima in una sola anima che bello che bello se ne andassimo a ricevere l'eucaristia così io lo mangio quante volte avete sentito le mamme vedere i loro bambini stringerlo al petto e dire io me lo mangerei questo bambino ecco Gesù Gesù dice San Pietro Giuliano Eymar Gesù subisce questa legge d'amore oserei dire questa necessità d'amore essere mangiato si dà in comunione si dona ci fonde in se stesso unione divina delle anime prosegue sempre più perfetta sempre più intima a seconda della vivacità crescente dei nostri desideri in me manete tegui nillo noi dimoriamo in lui ed egli dimora in noi noi facciamo una cosa solo con lui fino a che in cielo nell'unione gloriosa ed eterna si consumi quest'unione ineffabile cominciata qua giù dalla grazia perfezionata dall'eucaristia l'amore vive dunque con gesù presente nel santissimo sacramento partecipa a tutti i beni di gesù si confonde con lui sono soddisfatte le esigenze del nostro cuore che non può domandare di più e allora capite che e allora capite da soli capite come uno deve recarsi a ricevere l'eucaristia in che modo uno si deve recare con che cuore ogni giorno vi dico che mi arrivano tante email tanti messaggi dove mi raccontano tutto quello che succede forse perché capite c'è bisogno di parlarne con qualcuno con qualcuno che non ti chiude la porta in faccia forse sarà per quello forse c'è bisogno proprio di ascoltarci di sapere che non siamo soli e allora le leggo davanti a Gesù tutte queste email tutti questi messaggi non ultimo ieri uno dice una persona mi dice padre nella mia parrocchia danno la comunione sotto le due specie cioè vuol dire prendono l'ostia la intingono nel calice divino e la danno in mano ai fedeli allora questo era proibitissimo ancora prima del coronavirus da sempre è proibito quando si dà la comunione sotto le due specie ostia e vino si può ricevere solo in bocca questo da sempre è una legge della chiesa da sempre per una ragione logica ragionevole appunto molto semplice se io intingo l'ostia nel calice nel vino e la do in mano al fedele ovviamente ovviamente sicuramente al mille per cento cade il vino sulla mano del fedele che vuol dire il sangue di Cristo una profanazione terribile non si può ricevere la comunione sotto le due specie in mano da sempre se poi il fedele la va a ricevere adesso con i guanti siamo finiti siamo finiti queste cose vanno dette non si possono guardare e tacere bisogna dirle bisogna prendere carta e penna e scrivere scrivere a chi di dovere e informare è necessario è un dovere di coscienza bisogna farlo così come vi ho detto prima con umiltà con obbedienza con modestia con sottomissione con carità tutto quello che volete ma va detto bisogna dirlo perché anch'io non l'avrei mai saputo se questa persona non me l'avesse detto e come me chiunque altro perché nessuno c'è la palla magica che vede cosa succede nel mondo bisogna informare quell'altro che mi dice il sacerdote mette i guanti e va bene la legge lo prescrive il sacerdote mette i guanti scende dà le comunioni torna all'altare questo per dirvi l'ideologia che c'è sotto questo rivela l'ideologia torna all'altare e cosa fa? toglie i guanti e li mette sulla tovaglia dell'altare è incredibile ma quei guanti non sono monouso e non sono possibilmente probabilmente infetti e supponiamo che siano infetti e tu cosa fai? il guanto monouso lo togli e lo piazzi lì? sull'altare? sulla tovaglia dell'altare? così infetti tutta la tovaglia così va sull'altare toglie il guanto e lo piazza sull'altare a parte che c'è scritto nelle norme che la la tovaglia dell'altare va cambiata molto di frequente adesso chissà se lo fanno chissà bisogna disinfettare le ampolline ad ogni dopo ogni messa i calici idem le patene uguale chissà se si fa chissà se si fa poi mi dice finita la messa appena finita passa il diacono prende i guanti abbandonati sull'altare e li butta in pattumiera perfetto 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 meglio di così si muore voi ditemi come si può credere che un comportamento del genere riveli fede nella presenza vera reale sostanziale di Gesù nell'eucaristia ditemelo com'è possibile se io credessi mai potrei fare questo mai almeno detergere l'indice e il pollice della mano destra con le quali è distribuito la comunione almeno detergere in un bicchierino di acqua come c'è sempre stato ci dovrebbe essere accanto al tabernacolo per la purificazione delle dita dei sacerdoti dopo la comunione almeno detergerlo e poi prendere quell'acqua e versarla nel sacrario almeno quello no neanche questo come siamo rigidi come sono farisaico come sono rigido fondamentalista eh sì cosa volete fare pazienza pazienza però vi dico la verità porto nel cuore un desiderio un desiderio profondo io spero spero poi magari non succederà ma vorrei tanto quando morirò vorrei tanto poter stare in compagnia dopo tutto il purgatorio che il signore mi farà fare ma spero spero di avere la grazia di poter stare un po' in compagnia con quella bimba cinese con Sant'Arcisio con tutti quei bei martiri dell'eucaristia così poter ascoltare i loro racconti certo è un modo di esprimersi che non è adatto non è adatto a un linguaggio teologico lo so ma voi mi capite non sto facendo una lezione accademica poter stare in loro compagnia ascoltarli contemplare la loro gioia vedere la loro esperienza di vita così godere della loro presenza di questi fanciulli meravigliosi che hanno sacrificato tutto per l'eucaristia questa è la mia speranza poi tutto il resto sono sciocchezze e mi ha fatto piacere perché non ci sono solo notizie brutte ci sono anche notizie belle mi viene quasi da dire che al mattino vi faccio un po' il tg eucaristico un po' un tg eucaristico di tutte le notizie che dicevo mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere leggere di quel sacerdote che di quel parroco nella sua parrocchia ha scritto fuori un bel cartello assumendosi tutta la sua responsabilità dicendo io in coscienza la comunione la do solo in bocca figuratevi un po' la do solo in bocca e senza guanti disinfettandomi le mani dopo ogni fedele capite più sicuro di così si muore in bocca senza guanti disinfettandomi le mani dopo ogni fedele se qualcuno la vuole in mano sappiate scrive che il vostro parroco è assolutamente contrario ma per rispetto della coscienza altrui e delle norme la darò anche in mano ma attenti mettendo una garza sterile così si fa mettendo una garza sterile sulla mano del fedele e deponendoli l'ostia e appena assunta l'eucarestia portiamo via noi la garza sterile capite non come quelli che tempo fa dicevano vado col fazzolettino che poi chiudo e me lo metto in borsetta no infatti vi ho sempre detto che è sbagliato questo modo di fare quando si citano le persone quando si citano i sacerdoti bisogna citarli bene e bisogna capire bene fino in fondo cosa dicono perché sennò si fa dire a tutti tutto il contrario di tutto estrapoliamo i pezzi delle cose e non è giusto è sbagliato anche ieri a qualcuno ho detto non mi piace che prendiate le meditazioni che faccio e le tagliate a pezzi e poi prendete dalle meditazioni che tengo il pezzo che vi interessa non va bene sicuramente lo farete con l'intenzione più buona del mondo lo capisco benissimo e infatti non è che dico niente di particolare però non va bene dobbiamo offrire tutto tutto il pacchetto se per te è importante di quella predicazione sottolineare un argomento metti tutto metti tutto di questo argomento poi al massimo dirai raccomando di ascoltare dal minuto 26 facciamo ipotesi però uno ha lì tutto e se vuole ascoltare prima lo ascolta e può contestualizzarlo non un pezzetto e poi usarlo a sostegno di sarà anche una cosa buona ma non va bene togliere dal contesto un concetto e l'ho detto non sto facendo mormorazione perché ho chiamato subito chi gli dovere e gli ho detto guardi per favore guardate per favore non fatelo più mettete tutto o tutto o niente perché è giusto fare così è giusto rispettoso e mi è piaciuto che hanno capito hanno detto sì sì padre va bene bene perfetto sapete anche perché perché ieri è successo un altro fatto e vi dico anche questo una persona mi manda il vocale dell'omelia di un sacerdote e in questo vocale il sacerdote ha usato un'espressione un po' forte dove insomma diceva che coloro che si astengono dal fare la comunione e da fare la comunione perché non se la sentono di riceverla in mano e lui diceva e lui diceva questo comportamento è da falsi cristiani e mi ha mandato questo pezzetto di omelia io l'ho ascoltato e ho detto ma chiamo il sacerdote quindi ho cercato il numero ho chiamato e ho parlato con questo sacerdote gli ho detto guardi mi perdoni se mi permetto non ci conosciamo però mi sembra che forse quell'espressione è un po' fuori testo perché ho detto mi sembra giusto rispettare la coscienza delle persone io non chiamo falso cattolico colui che chiede la comunione in mano dico che non sono d'accordo ma non posso dire che è un falso cattolico non è giusto idem dall'altra parte quindi dico capisce che falso cattolico è un po' dura da sostenere per una modalità o per l'altra della ricezione della comunione rispettiamo la libertà di coscienza che anche la chiesa permette ho detto ma io capisco che quando si predica qualche volta scappa una parola in più a me capita mille volte che poi dico ma quella cosa potevo dire in un altro modo potevo stare più attento però vabbè capite se si parla braccio e non si legge un testo e è stato importantissimo questo incontro sapete perché la persona che mi ha dato in vocale mi dice ma padre ma vede che cosa terribile che cosa brutta e invece sempre ve l'ho sempre detto andate sempre alle fonti chiarite le questioni questa telefonata è stata bellissima questo sacerdote è stato gentilissimo è stato veramente devo dirvi proprio umilissimo sono proprio stupito di questo bello proprio una bellissima telefonata un sacerdote veramente meraviglioso perché mi ha detto padre guardi ma sa che anch'io ho sempre difeso difendo sempre la comunione in bocca in ginocchio e capisco molto bene quello che lei mi dice mi dispiace perché è successo questo fatto sentite che cosa incredibile capite dopo come si può fraintendere far girare quello che voglio io ecco perché non bisogna mai uscire dal contesto questo sacerdote mi dice padre pensi parlo sempre del discorso della comunione in bocca in ginocchio o in mano parlo sempre difendendo sostenendo l'importanza della comunione in bocca in ginocchio che nella mia parrocchia cerco di portare sempre avanti e quando faccio un certo discorso inerente inerente a questa questione della comunione in mano e uso questo termine del falso cattolico io sempre spiego il perché cioè perché all'interno della nostra diocesi sono successi dei problemi con alcune persone sapete i presunti sedicenti visionari sono successi alcuni problemi con queste persone e allora stiamo cercando di far capire al popolo di dio che non bisogna prestar fede a qualunque cosa si sente ma bisogna sempre riferirsi alla chiesa lo dico sempre cioè dico sempre che uso questo termine uso questa espressione non per condannare chi in questo momento si astiene per motivi di coscienza ma se si astiene per motivi di coscienza legati a queste presunte cose strane allora io appunto dico che non va bene e mi dice pensi l'unica volta che non l'ho fatto perché lo faccio sempre è la volta in cui hanno registrato e hanno mandato il vocale a lei io ho detto guardi la capisco benissimo questo ci insegna quanto sia importante ripetere sempre tutto se dobbiamo parlare perché capita quella volta che arriva quell'uno ti registra e poi dopo passa che tu hai queste idee quando invece per 364 giorni detto il contrario quell'unico giorno in cui lo dici senza specificare tutto bene fanno partire proprio quello così come lasciate meno dire così come io non sono assolutamente d'accordo sul fatto di chiamare un sacerdote chiamare chi che sia sottoporre una questione di coscienza sottoporre un caso e senza avvisarlo registrare la telefonata io lo trovo scorrettissimo è successo eh registrare la telefonata senza avvisarlo fare domande magari anche molto precise puntuali registrare le risposte poi diffondere nel mondo intero quello che mi ha detto quello che mi è stato detto dicendo che porto come prova la telefonata registrata no non è giusto questo non è giusto se tu registri devi avvisare perché ma non perché io cambio quello che dico ma perché entro nella consapevolezza che quello che dico non è solamente rivolto a te ma può essere rivolto a tutti un conto capite no seguitemi un conto è se io ti scrivo una lettera a te e un conto è se io scrivo un articolo di giornale se uno mi dice padre mi scrivi una bella lettera per mio figlio che si prepara la prima comunione o per il mio figlio che è ritornato alla fede sull'importanza dell'eucaristia si chiama Giacomo facciamo finta mi scrivi scrivi una lettera a Giacomo dove lei parla un po' dell'eucaristia al cuore di questo ragazzo arriva un editore e mi dice padre mi potrebbe scrivere un articolo sul tema dell'eucaristia secondo voi a parte a parte il caro Giacomo o senza il caro Giacomo ma secondo voi i termini che io uso sono la stessa cosa pur parlando del medesimo argomento ovviamente no perché la lettera a Giacomo è per Giacomo e parlo a una persona una un articolo di giornale è per tutti e ovviamente non posso parlare con la stessa come dirvi con lo stesso trasporto con la stessa intimità come parlerei con Giacomo è ovvio io so che mentre faccio queste meditazioni sono registrate e poi verranno trascritte e poi andranno chissà dove quindi quando parlo ho sempre in mente questa cosa ma quando parlo con il giovane che mi viene davanti e mi parla dell'eucaristia io gli rispondo è chiaro che parlo in un modo diverso no è chiaro che gli parlo di più in modo più confidenziale con la mia mamma se parlo dell'eucaristia non è come parlo con voi è un po' diverso perché c'è un rapporto diverso c'è un'intimità diversa ci si può permettere delle espressioni dei modi di dire che ovviamente se parli davanti al pubblico non puoi dire non puoi avere quindi non è giusto smembrare ritagliare o registrare senza avvisare che e dopo dire ho la prova di quello che dico non è giusto io non lo trovo giusto non è corretto qualunque sia il contenuto potrebbe essere il contenuto più bello del mondo potrebbe essere trattare la risoluzione della questione della trinità non ha importanza ma se tu registri avvisi all'inizio e dici avviso che sto registrando perché dopo voglio riascoltarmelo bene e io so mi so regolare perché poi questo va a ricadere sugli altri e quando poi uno viene a scoprire cosa fa chiude tutti i battenti dice va bene allora visto che abbiamo a che fare con la disonestà allora io chiudo tutti i battenti basta adesso non parlo più con nessuno e così chi ci va di mezzo ci vanno di mezzo gli innocenti coloro che invece hanno veramente bisogno e questo non è corretto ripeto non perché il problema è sui contenuti non perché uno cambia le idee non perché uno dice bene il male male il bene perché è registrato no ma il modo quello cambia di necessità come vi ho spiegato e le parole vengono più misurate perché si capisce che devono essere comprese da tutti e non solo dalla persona con cui tu stai intornoquendo ma da tutte le persone è una cosa molto molto delicata e se io non avessi chiamato questo sacerdote perché gli dispiegazioni io sarei rimasto con l'idea di dire ecco vedi questo sacerdote pensa questo invece non è vero invece non è vero lui mi ha detto padre è l'unica volta glielo assicuro è l'unica volta che mi sono dimenticato di menzionare questa questione perché la menziono sempre e quell'unica volta è arrivata la registrazione e si figuri che io la penso esattamente come lei e dico ma guardi sia tranquillo la capisco benissimo noi non siamo delle macchine non siamo dei robot siamo degli esseri umani e non possiamo procedere per schemi è chiaro che non è che ti ricordi di dire sempre tutto sei sempre tu che parli ovvio che ogni tanto dà qualcosa per scontato eh certo poi dopo arrivano quelli che pescano così dal mazzo il fiore e dicono vedi questo è il fiore preferito e poi è l'unica è l'unica margherita in un mazzo di papaveri andiamo sempre alle fonti ve l'ho sempre detto è una questione di correttezza intellettuale sempre alle fonti sempre è inutile diffondere chissà quale stupore confusione e amarezza sempre alle fonti sempre a chiedere sempre a domandare ragione e ricordatevelo sempre volete la benedizione di Dio vogliamo la benedizione di Dio in quello che facciamo allora correttezza estrema rigore estremo trasparenza estrema onestà estrema solo così abbiamo la benedizione di Dio in quello che facciamo questo modo da social già ve l'ho detto questo modo da social non va bene noi usiamo i social ma non parliamo e non ragioniamo come vogliono i social non funziona così usiamo gli strumenti per la gloria di Dio ma non diventiamo succubi degli strumenti ci vuole onestà ci vuole sincerità mi ricordo sempre e lo lascio anche a voi a questo monito che mi diede il mio confessore quando divenni sacerdote che mi disse ricordati Giorgio ogni volta che vai a predicare ogni volta che siedi in confessionale ogni volta che sei sull'altare ricordati celebra predica e confessa come se davanti a te ci fosse il Papa sempre come se davanti a te ci fosse il Santo Padre che ti ascolta parole sante parole sante voi dite eh ma che cosa cambia 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 vi assicuro che cambia non i contenuti ma il modo il modo in cui noi trasmettiamo i contenuti vi racconto questo piccolo aneddoto un giorno di tanti anni fa mi capitò di avere in convento dove ero un vescovo e allora dovevo celebrare la messa del 18 e allora dissi al vescovo eccellenza se vuole presiedere lei io le lascio alla messa non c'è nessun problema e lui mi rispose no no io ho già celebrato celebra pure lei va bene era in camera allora io scendo mi preparo eh sto per uscire vedo il vescovo che arriva e dice posso assistere alla messa? ah certo che tu certo che puoi assistere alla messa ci mancherebbe sì sì bene allora mi metto lì tranquillo seduto sull'altare al mio posto sto lì se mi date un inginocchiatoio mi metto lì tranquillo ma vuole concelebrare no 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 sto lì ad assistere e io in quella messa dovevo predicare quando sono uscito ho detto mamma adesso come si fa a predicare con la presenza di un vescovo e mi sono venuti tutti i calori del mondo capite? cioè insomma era la prima volta che mi capitava una roba del genere dicevo un conto è quando predico davanti al popolo di Dio ma qui c'è presente sto vescovo che tra l'altro poi ammiravo ammiravo e ammiro tantissimo dicevo mamma mia adesso chissà che precisione di linguaggio devo avere se sbaglio una virgola è finita no scherzo non è che era finita ma insomma mi dispiaceva no e e ho predicato ho fatto l'omelia e e mi son detto dopo pensa a te ti eri un po' dimenticato il monito del confessore quando ti diceva predica sempre perché vedete alle volte uno così lascia andare e invece deve sempre ricordarsi l'altezza della predicazione l'altezza della confessione l'altezza della celebrazione della santa messa come se ci fosse il papa e in effetti pensate quell'omelia lì fatta con il davanti al vescovo me la ricordo ancora e sono passati anni e anni e anni di solito dimentico tutte le mie omelie ma quell'omelia lì me la ricordo ancora tanto è stata la come dire la la partecipazione interiore che mi ricordo ancora quello che dissi e questo dovrebbe essere però sempre sempre dovrebbe essere che noi in quello che facciamo in tutto quello che facciamo dovremmo avere questa compartecipazione interiore così profonda così elevata e allora così chiediamo a Santa Rita questa grazia grande di di accostarci l'Eucarestia con dentro nel cuore come dirvi questa questo grande desiderio unitivo con Gesù e Eucaristia il quale ci insegna ad avere grande rispetto di tutto di tutti e ad avere grande correttezza interiore e e anche ci insegna il coraggio dobbiamo avere coraggio coraggio di chiamare le cose con loro nome il coraggio di dire quello che ci sembra vero portando le prove citando le fonti sempre di quello che diciamo e poi sostenerlo e vi dicevo appunto di questo parroco che ha scritto sul in mano sulla garza sterile e poi non riteniamo la garza capite non tutti i portacasi fazzoletto come invece nelle settimane passate girava questa voce no e poi ritiri ritiriamolo la garza e poi lui scrive e chi trova qualcosa di non corretto di illecito in questo mio dire l'ha scritto è non detto è scritto chiunque trova qualcosa di illecito in questo mio dire si rivolga pure all'arcivescovo guardate più trasparenza di così si muore più chiarezza di così si muore bello no è bello operare nella chiarezza nella trasparenza è bello mostrarsi per quello che si è quindi ma anche noi preti non dovremmo avere problemi se quando siamo in chiesa siamo visti e guardati di che cosa se siamo a posto con la coscienza e stiamo facendo del nostro meglio l'importante è l'integrità di tutto il momento tutta la storia deve essere riportata e questo sacerdote ha messo questo bello avviso bello grande fuori dalle porte della chiesa dove ogni fedele leggendolo si sa regolare e dice va bene a me sta bene ci vado a me non sta bene non ci vado del resto le chiese sono tante di chiese ce ne sono tante e ognuno può andare dove più si sente se non ti va bene lì vai altrove ma permettiamo la varietà la pluralità la diversità tanto invocate in questo tempo ecco allora permettiamolo per tutti permettiamo a tutti di poter avere ciò che è giusto avere ciò che la legge dello Stato non proibisce ciò che la legge del comitato tecnico scientifico non proibisce permettiamolo perché se lo permette lo Stato che paura dobbiamo avere non possiamo diventare più papa del papa più re del re si diceva allora è inutile moltiplicare le leggi cerchiamo di asciugare no non facciamo come i farisei con tutte quelle norme asciughiamo asciughiamo il nostro papa ce l'ha ricordato mi raccomando obbedienza alla legge esatto il decreto del governo è la legge questa è la legge obbediamo alla legge e la legge prevede che e non prevede altre altre pressioni che poi guardate non mi sembra di vedere tutta questa polizia che fa ingressi occulti nelle chiese per portare via i sacerdoti voi avete visto tutte ste camionette della polizia avete visto gli squat arrivare in tenuta antisommossa e con i fucili spianati a controllare i controllori del virus no avete visto tutte le teste di cuoio calarsi dal campanile per venire di soppiatto a fare chissà quale foto quale reportage o a rapire chissà quale sacerdote ma no ma dai ma per favore ma ma qui non siamo mica nel complottismo ma non siamo mica nei film di James Bond dai cerchiamo di essere anche un pochino un pochino insomma non perdiamo il lume della ragione stiamo sereni ma avete visto cosa c'è in giro avete visto avete visto ieri sera cosa c'è in giro ieri pomeriggio cosa c'era in giro davanti alle mie finestre passavano fiotti fiumane di persone in bicicletta a piedi senza mascherine tutte aggruppate ieri sera fino alle 11 ragazzi che urlavano cantavano giocavano uno attaccato all'altro senza la benché minima ombra di un elastico della mascherina e noi dobbiamo pensare che 5 persone in chiesa diventino il focolaio di un contagio dai su su forza forza su ve l'ho detto no questo papà che domenica ha chiamato dicendo scusi ma non riescono neanche a passare con la macchina in paese tanta gente c'è e c'è la gente in giro che si lecca il gelato con giù la mascherina davanti al mondo intero e quelli che rispondono cosa vuol fare pazienza cosa dobbiamo fare tutta la Lombardia è così e allora va bene però però bar sì in chiesa con le squadre del goniometro stile Robocop cerchiamo di rimanere con i piedi per terra voi sapete che io vi ho sempre richiamati alla prudenza all'obbedienza a tutte le cose sapete già perché l'avevo già detto due mesi fa quindi non mi sto a ripetere però adesso ci vuole anche un pochino di come dirvi di d'utilità ecco non facciamo i rigidi non diventiamo qui sì non diventiamo rigidi su cose ecco cioè siamo in chiesa rispettiamo tutte le norme del caso però ripeto ecco non c'è tutta questa tragedia e tutta questa situazione da 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 tenuta antisommossa ecco no stiamo sereni che se uno oggi prende il virus è scientificamente certo che non l'ha preso in chiesa perché nessun luogo pubblico è così armato di protezioni disinfettanti e paura come la chiesa come le nostre chiese quindi stiamo tranquilli perché siamo siamo proprio iperprotetti ipertutelati iperprudenti quindi che poi se uno prende il virus oggi oggi ma anche ieri tu come fai a sapere dove l'ha preso non è che il virus ha incorporato il satellitare che ti dice tac l'ho beccato qui capite intanto vi dico che io in questi due giorni ho sentito molte ambulanze girare non so avevano smesso adesso cominciano ancora a suonare chissà cosa vuol dire comunque al di là di questo nessuno può dire che l'ha preso lì come faccio a sapere se ho preso il supermercato dove sono stato da parentiere dove sono stato in giro con la bicicletta con mio figlio dove sono stato dal gelataio dove sono stato in chiesa dove sono stato dove l'ho preso non si sa nessuno può dire l'hai preso alle 9.53 oppure alle 10.01 questo non si può sapere non è che uno esce di chiesa e sviene contagiato dal virus capite quindi non creiamo il fantavirus eh non creiamo cose che non esistono succubi di un'angoscia di una situazione ansiogena che che non c'è basta essere attenti prudenti e molto molto rigorosi questo è sufficiente in questo caso come in tutti i casi del resto guardate prendete il decreto del governo e vedete quanto è semplice e sobrio no del resto i sindaci del nord soprattutto che hanno minacciato ma non solo che hanno minacciato di chiudere di richiudere ancora tutto non l'hanno fatto per le chiese che hanno aperto anche loro non l'hanno fatto per le messe neanche una parola su quello gli assembramenti non sono nelle chiese ma sono sui navigli sono nelle piazze sono nei campi sono per le strade della città lì ci sono gli assembramenti sono davanti ai bar sono davanti alle gelaterie per questo hanno minacciato di richiudere neanche una parola sulle chiese quindi calma e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen si è rodato Gesù Cristo sempre si è rodato grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori